Grazie Il Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni L'aver fatto Roma-Tokio e ritorno in meno di 72 ore, ma un tantino provato, probabilmente adesso cominciano a diventare troppo vecchia Per fare sempre, avere delle risorse e non spendere quelle risorse è qualcosa che non è tra i territori Quindi vale chiaramente per le disparità che esistono da regione a regione e vale per le disparità che esistono all'interno della stessa regione Grazie, Presidente Grazie 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 Grazie